amici di cape town music buonasera puntata particolare questa di cape town bellezza perché come è capitato per l'ultima puntata del mese di aprile anche l'ultima puntata del mese di giugno sarà particolare perché sono qui al centro estetico charme and beauty ma con me maddalena chianese buonasera a tutti e luigi tesone buonasera allora voi direte maddalena chianese oramai volto conosciuto sappiamo che ogni puntata ci dà informazioni per tutto ciò che riguarda la bellezza e la cura del corpo per luigi tesone non l'avete mai visto beh luigi tesone è un fotografo professionista della tesone group insieme stanno collaborando in un progetto progetto che la realizzazione di un calendario sulla violenza dedicato alla violenza sulle donne per il 2018 che sarà presentato poi a luglio quindi il mese prossimo e il mese prossimo tutte le puntate del centro estetico charme and beauty saranno dedicate proprio alla realizzazione di questo calendario quindi faremo vedere nello specifico come si trucca la modella insomma i vari trucchi perché non tutte sono truccate modelle lo possiamo dire no sono truccate quindi il livido e il sangue è tutto tutto finto sì sì è tutto finto sono trucchi di effetti speciali questa questa sinergia tra luigi e maddalena capita proprio a pennello perché poi in effetti sono molto legate sono sono legato a tantissime associazioni che eh propagandano un pochettino questa non violenza sulle donne per qualche per qualche associazione sono anche il loro eh testimonial quindi mi sento proprio coinvolto allora luigi tu sicuramente sarai soddisfatto di questa collaborazione con maddalena chianese quindi tesone group centro estetico charme and beauty per realizzare questo questo calendario ma una domanda che te la faccio io ma sicuramente ci sono tante telespettatrici che se lo chiedono c'è uno standard eh di donna per per essere protagonista di questo calendario standard non direi che noi cerchiamo di prendere sempre ragazze sulla fisicità molto normale che adesso si porta su tutte le ragazze che quindi eh una ragazza molto lineare non eh non cerchiamo quella ragazza bella magra perfetta anche con qualche piccolo difetto così facciamo vedere la realtà delle cose come sono quindi criteri di valutazione sono ben diversi dalla modella di moda perché qui parliamo di un di un calendario dedicato alla non violenza sulle donne e purtroppo in questo caso la realtà delle cose è veramente triste modello standard sicuramente causa molto importante però maddalena tra le modelle c'è c'è una una particolare sì abbiamo preso una donna che comunque era l'ottavo mese di gravidanza eh poi ci sono ragazze che comunque veramente sono state testimonie di violenza eh proprio personale sia psicologica che fisica direttamente quindi è stato un calendario molto toccante eh nel lavorarlo insieme e quindi a sto punto possiamo anche anticipare quando quando ci sarà la presentazione o non avete ancora stabilito la data la data è ancora da stabilire anche perché comunque ci sarà la partecipazione di un'associazione e quindi stiamo ancora mettendo d'accordo le possibilità della presentazione del calendario allora a questo punto io ringrazio Luigi Luigi Tesone per la sua presenza qui al centro estetico Charmin Beauty magari ne approfitteremo per venirti a trovare nella nella tua azienda al tuo studio certo sicuramente sarei felice di ospitarvi quindi grazie a Luigi con Maddalena Chianese noi ci rivedremo sicuramente nel mese di luglio ripeto un mese dedicato interamente al alla realizzazione di questo di questo calendario quindi sveleremo anche un pochettino tutti i trucchi no sul sul come truccare una una simulare una donna picchiata una donna violentata quindi saranno tutti tutti i trucchi Maddalena vi svelerà come fare ma credo non vi dirà proprio tutto perché poi dovete venire sempre qui al centro estetico Charmin Beauty per avere la perfezione va bene vi aspetto lei vi aspetta quindi Viale Regina Margherita 183 Mondragone Charmin Beauty noi come sempre il Cap Town bellezza mi raccomando mese di luglio attenzione seguiteci perché veramente ne vale la pena alla prossima Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti